Nel prossimo appuntamento scopriremo l'inaspettata evoluzione del viaggio nei sentimenti di Valentina e Tommaso. Sta facendo tutto questo perché io chiamo il falò e ce ne andiamo via. È successo un casino? Chi è? Ma ragazzi, è successo un casino. Vabbè, voi si è capito. E poi continueremo a conoscere il percorso delle altre coppie, tra dubbi, riflessioni e colpi di scena. Basta, basta, non voglio darvi niente, io prego, basta. Sta, ho una comunicazione per te, ti aspetto al falò. Lei deve fare benissimo quello che sta facendo adesso, cioè fa vedere quello che è. Io vi aspetto lunedì 5 luglio, in prima serata su Canale 5, per un'imperdibile seconda puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti, continua. Grazie. 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 Grazie.